Benvenuti a tutti, oggi è una visita accumulativa perché siamo tre associazioni, c'è Italia Medievale, c'è quello del villaggio.com e c'è il circolo culturale di Palocantino, quindi siamo contenti di aver allargato l'utenza a queste iniziative. Io ho un compito breve, vi introduco e vi dico due cose e poi vi lascio nelle mani di Mauro che sa tutto su questa chiesa. Allora la prima cosa che vi chiedo è guardate la punta del campanile di fronte a voi e ditemi se notate qualcosa di particolare. Qualcuno sa? La stella. Questo è l'unico esempio di campanile che al posto della croce ha una stella e il motivo per cui ha la stella è perché questa è la Basilica dei Re Magi. Secondo la tradizione, Sant'Eustorgio portò qui le reliquie dei Magi e da quel momento è nota come la Basilica dei Magi. Le reliquie vennero trafugate da Federico Barbarossa e dalle sue truppe portate a Colonia. Una piccola parte venne restituita nel 1952, però all'interno è rimasto il sarcofago che secondo la tradizione venne trasportato con un carro e si fermò proprio qua davanti con i buoi che non volevano saperne di proseguire. E quindi questa è la leggenda per la quale Sant'Eustorgio sorge in questo luogo. è leggenda ovviamente, però è molto suggestiva e affascinante. E oltretutto Sant'Ambrogio è una delle quattro basiliche ambrosiane di Milano. Sant'Ambrogio, Sant'Eustorgio, San Nazaro e San Simpliciano. La seconda cosa che volevo dirvi è, vedete quel pulpito che adesso è cemento e marmo, fatto ricostruire così dal cardinale Borromeo. In origine era in legno ed è l'altro elemento distintivo di questa chiesa perché in quella stessa posizione come un pulpito appunto in legno predicavano i Domenicani la lotta all'eresia, la lotta contro i Catari. In particolare San Pietro Martire o Pietro da Verona, nato nel 1205 a Verona e morto nei boschi intorno a Seveso nel 1252 ucciso da due sicari, probabilmente mandati dai Catari. E la cosa particolare di Pietro Martire è che fu uno dei più streni combattenti contro l'eresia, soprattutto quella Catara, pur essendo nato in una famiglia che a sua volta era Catara. Quindi è un po' come per i fumatori che smettono di fumare, diventano i più intransigenti in assoluto. Dentro vedremo poi nella Cappella Fortinari l'Arca di San Pietro Martire che è uno dei maggiori capolavori di arte medievale in assoluto e in questa chiesa si sommano le testimonianze e le epoche in una maniera incredibile, forse più ancora che in altre chiese più importanti e più note di Milano. Quindi una vista davvero da non perdersi e da gustarsi e noi ce la gusteremo tutta insieme a Mauro Enrico Soldi. Grazie. Grazie, grazie. Ma targa, vabbè, non avete la vista grandissima perché anch'io metto sugli occhiali ma c'è scritto che qui per la prima volta ci fu il primo fonte battesimale per i cristiani di Milano. Questo cosa vuol dire? Che questa zona è sacra di per sé per la religione cristiana cattolica perché qui pare che proprio nel primo secolo dopo Cristo all'altezza lì ci fosse stato il primo battesimo di fedeli milanesi da parte di San Barnaba. San Barnaba è un santo importantissimo per Milano in quanto Milano nel Medioevo e tuttora è sede apostolica. Concordi Letizia, propulsale Stizia, Marie Preconia, Recolate Ecclesia, Santa Virgo Maria, Quae Felici Gaudio, Resurgente Domino, Quae Felici Gaudio, Resurgente Domino, Un momento di Giacomo Torelli. Vi posso assicurare che è un caso più unico e raro di Tomba Milano. In quanto questo Torelli è stato il signore di Guastalla. Allora voi direte cosa ci è arrivato qua a fare. Vi parlavo prima delle alterne fortune che i signori dei piccoli anche centri di potere che c'erano nell'Italia potevano avere. Quando questo Torelli diventa signore di Guastalla deve dividere il potere col fratello maggiore. Per cui passa poco tempo e cominciano a litigare. Chi perde? Lui. Le cronache dicono che fosse non particolarmente dotato di una grande intelligenza anche strategica. Quando, come si suol dire, i signori perdono la roba hanno un altro mestiere, cioè il mestiere delle armi. Allora lui diventa immediatamente capitano di Ventura e di conseguenza ottiene qualche fortuna facendo le scoribande. E questa bravura per essere un soldato di Ventura viene appunto notata dai Visconti e dagli Sforza. Diventa un soldato al soldo degli Sforza. Però, quando finisce il suo mestiere delle armi, diciamo così, va a vivere in Liguria perché sposa una del Carretto. Anche lì altri problemi perché arrivano i Genovesi. I Genovesi prendono in mano la Repubblica. Finale Ligure, quelle parti lì, non possono essere in mano i signorotti. Devono essere in mano la Repubblica. Per cui viene cacciato. Torna a Carpi e muore a Carpi in casa di un parente. Perché neanche più aveva una casa che poteva mantenersi. Però si era fatto costruire il monumento. Ma non muore e la sua salma viene traslata a Milano perché la salma era pronta. I Visconti di Sforza li riconoscono il suo valore. Vedete che comunque è ritratto all'interno. Perché se si arriva così, io all'inizio non l'avevo notato che comunque c'era anche proprio il monumento di questo personaggio. Sono uno dei, secondo me, tre punti focali di questa chiesa. Questa è la Cappella Visconti. O meglio, una delle Cappelle Visconti. Ma in particolare la Cappella Visconti. Questa Cappella è assolutamente un capolavoro per motivi pittorici e per motivi scultorei. Io comincerei a spiegarvi un attimo la tomba. La tomba è di Stefano Visconti e di Valentina Doria. Allora, inquadriamo i due personaggi. A sinistra, presentato da Santo Stefano, appunto Stefano Visconti inginocchiato con una bellissima capigliatura che ciò dimostra il suo status. Questo Stefano Visconti muore nel 1325 come il signore di Arona. Perché i Visconti non avevano solo Milano, avevano anche... provenivano dai laghi e da Angera. C'era anche la rocca Visconti a Angera e di conseguenza erano signori praticamente di un territorio esteso che andava anche oltre l'attuale Svizzera, cioè il Ticino. A destra abbiamo Valentina Doria, presentata da altri tre santi. Svizzera. 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 Svizzera.